ehi benvenuto o bentornato in un nuovo video a s m r stasera voglio testare la tua attenzione quindi sguardo a me e a quello che ti chiederò di fare chiaramente mettiti sempre in una posizione comoda che ti consente di non avere alcuna distrazione da altri suoni o stimoli visivi mi raccomando è importante iniziamo la prima cosa che ti chiederò di fare è di concentrarti per tutto il tempo sul mio naso quindi concentra il tuo sguardo su questo punto fisso per tutto il tempo mentre io farò cose e ti farò vedere degli oggetti ok? adesso fissa il mio naso e guarda qui dentro guarda qui dentro un altro quale sto muovendo? Quello più grande o quello più piccolo? Molto bene adesso dimmi invece quale sto muovendo dei due, quello più grande o quello più piccolo? ottimo fissa sempre il mio nodo mi raccomando ok adesso ti mostrerò dei colori sono quattro colori ok giallo arancio verde e blu te li rifaccio rivedere ok? bene bene qual è il colore che manca? e adesso? e adesso? e adesso? benissimo faremo la stessa cosa adesso con queste penne una è verde una è blu e una è viola ok? benissimo guarda le penne 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 guarda guarda le penne guarda le penne come colore esatto e adesso adesso concentrati su loro due quella verde e quella viola e continua a guardare il mio naso non ti distrarre guarda il mio naso continua a guardare il mio naso continua a guardare il mio naso guarda 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 il mio naso adesso continuo sempre a guardare il mio naso mentre faccio questi movimenti guardami il mio naso e dimmi quale penna sto muovendo adesso quale penna sto muovendo adesso guarda sempre queste penne guarda sempre queste penne guarda sempre queste penne continua a guardarle 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 non guardare altro quante sono adesso le penne? quante sono adesso le penne? quante sono adesso le penne? continui a guardare le penne quante sono le penne? ok test superato ora voglio che tu mi legga un numero da questo metro il primo che vedi lo farò lentamente ma anche velocemente ok ok Sì. ok, riproviamo perfetto, questa era un po' più difficile devi essere molto veloce adesso voglio che tu ti concentri sulla campana rossa mentre io faccio girare questo splendido splendido buff, 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 lusci come la pompona, anche come vuoi è veramente morbidissimo ma tu concentrati sulla campana sulla campana rossa la campana rossa la campana rossa la campana rossa è di più la campana rossa la campana rossa è di più la campana rossa la campana rossa è di più 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 ci sono nella campana rossa ok? bene! ultimo esercizio voglio che tu ti concentri sul movimento di questa luce questa luce di questa luce guarda! fissa questa luce questa luce questa luce guarda la fissa e non ti distrarre guarda anche le mie mani guarda le mani quanti sono questi quanti sono? e adesso quanti sono? quanti sono? quanti sono? questi 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 ok bene sei stato bravissimo hai mantenuto tutto il tempo la concentrazione quindi direi che questo esperimento è stato perfetto 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 io ti auguro ti auguro ti auguro ti auguro buonanotte buonanotte ciao 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 Grazie a tutti